Eccomi qui signori e signori Vi voglio pompo Non mi spoilerate perché vi apro come delle sardine Dai Non fare pirletti Allora ragazzi vi ricordo che tutte le donation E tutto quanto si riempirà il bicchiere qui sotto Quindi grazie a tutti quelli che Contribuiranno Oh Bethesda Game Studios Present L'ho fatta bene la voce Bethesda Game Studios Present Fallout 4 Tipo Resident Evil Oh La guerra Eh La guerra non cambia mai No Che bello Che inizio Cinema Nell'anno 1945 Il mio bis bisnonno In servizio nell'esercito Si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie E dal figlio mai conosciuto Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla seconda guerra mondiale Con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima Guardate col pollice Il mondo si aspettava l'apocalisse Invece Avvenne qualcosa di miracoloso Iniziamo a usare l'energia atomica non come erva Ma come fonte d'energia quasi inesauribile La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile Robot domestici Automobili a fusione Computer portatili Però Nel ventunesimo secolo La gente si risvegliò dal sogno americano Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie Il mondo crollò La pace Divenne un ricordo lontano Siamo nell'anno 2077 Ci troviamo sul baratro della guerra totale E ho paura Per me Per mia moglie Per mio figlio Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato Fischia che sound Che la guerra La guerra non cambia mai La guerra non cambia mai Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani tesoro Tu dici Ma certo Ora preparati e lasciami lo specchio D'accordo Scusatemi Ma qualcuno stava pisciando Si è sentito proprio che qualcuno faceva la pipì Non vorrei poi esagerare con queste cose Allora Ali ti seguo da poco Ma sei uno dei miei youtuber preferiti L'ho già finito quattro volte in un mese L'ho già finito quattro volte in un mese Impazzito Allora come state ragazzi Dai intanto che lo iniziamo Che io creo il personaggio Parlatemi un po' che io vi rispondo Dai Allora la serie 15-20 Così poco Mi sottovalutate 45 Ci siamo 20-20 Ma ragazzi Posso dirvi che però qua Secondo me No Per me qua è più Siccome non è così Fighissimo Secondo me ci mettiamo meno Delle altre volte Buonasera Buonasera Marco Buonasera a tutti Ma che bello Quanti Quanti abbonati ci sono ragazzi Scrivete abbonati Scrivete tutti Anche un ciao O un Sono abbonato Io mi abbono Quanti siete Siete tantissimi Sono un botto Con le palle Che detto così Potrebbe essere brutto Ma in realtà Sì è il simbolo Della palla da basket Capito Isca Marco Sabbo Ma chi è che c'è la palla Dei Lakers Oh Ah Isca Sabbo ha la palla Della Juve Ma quanti siete Ma che bellini Allora Io direi Sapete cosa volevo fare A proposito Adesso che mi è venuto in mente Tipo a 50 Se raggiungiamo i 50 abbonamenti No facciamo anche 60 Rifaccio tutto Hogwarts Legacy Con un tasso rosso Vi dico solo questo Allora vediamo un attimo Sesso cosa facciamo Maschio o femmina Fischia decidete voi Se che me frega Interagisci con il pubblico Avvio il soldaggio E' bruttissimo però E' bruttissimo fare questo tipo di sondaggio Però ragazzi è giusto così Cioè o scegliamo lui o lei Per partire Poi li modifichiamo a manetta Magari gli faccio anche la cresta Che ne so Cioè non è detto che Devo fare proprio loro due Poi li modifico no? Intanto iniziamo Ok? Ah perché voi dite Meglio il maschio Perché la femmina La stiamo già vedendo Nella serie tv Può essere un ragionamento Maschio e poi poverino Non è così brutto E' solo diversamente bello Ma allora dipende Adesso lo facciamo Scusate ancora Per l'amor del cielo Votate maschile Perché? Se è femmina Deve essere florca Va bene Se no passiamo quattro ore No però capisco il fatto Che voi dite La femmina ce l'abbiamo già Nella serie tv Facciamo il maschio nel gioco Ci sta Ci sta Vi lascio ancora Pochi secondi Quindi se potete votare In chat votate Votation Votations Votation Rotations Votation Dai che ci siamo Ci siamo quasi Sto per terminare Mi sembra di essere Il grande fratello Stop Al televoto No com'è che fa? Io chiudo Ufficialmente Il televoto Signori Ed eccoci qui Oh beh Ma certo che ti consigliamo La serie tv E non devi nemmeno Aver giocato Per forza Allora Vediamo un po' Extra che è? Cos'è extra Scusa? Vabbè raga Però veramente Cioè Mamma mia Messima luccio Ma questo Non era male Potrei anche fare Questo Però proprio Lo disintegro Cioè I capelli Ma cos'è? Raga partiamo Proprio malissimo Il naso C'è proprio il tipo Ma non è malvagio Già così Ah la pelle Questa Vediamo Rosio Baciato dal sole Sì Oh salve splendore Ma Oh Esagerato Segni Macchie Danni Sfregio sulla guancia Dov'è? Ah Sfregio sulle labbra E dov'è? Quali labbra? Non lo vedo raga Sei bellissimo Ma raga non c'è Cioè mi scoccia Mi pare troppo normale Ma non c'è la barba Questa Peli facciali Oh Eh dai Una roba Bello Ma lunga Non c'è Raga Ah ecco Un attimo Un attimo Così ragazzi Ma che bellino Aspetta Fatemi vedere tutti Aspetta un po' Questo Allora Sono indeciso Tra questo Questo pure è figo Sembra brutto Ma è figo Ho questo qua Ragazzi Allora Questi li chiamiamo Ah no C'è il nome Bardo Bardo Allora O Bardo Allora guardateli bene Questo è motociclista Ok Questo è Bardo O se no Scala reale Allora Attenzione Scala reale Guardatelo bene Questo è scala reale Chi è Benvenuto Nella Miracle Nation Special Club Grazie Anas Per l'abbonamento Grazie mille Bello Un bacione Non c'è Pornoattore degli anni 80 E lo sto facendo io Grazie Anas Grazie mille Per l'abbonamento Bello Allora Scala reale Pardo Pardo O Motociclista Ok Partiamo col sondaggio Allora Avvia il sondaggio E poi partiamo col gioco Non c'è più personalizzazione Allora abbiamo detto Scala Poi ve li faccio vedere di nuovo Adesso Scala reale Pardo O Motociclista Ok Avvia sondaggio Allora Intanto ancora grazie ad Anas Per l'abbonamento Grazie mille Allora Questo è motociclista Mentre votate Questo è bardo Ok Ci siete E questo è scala reale Ok Quindi Ve li ripeto Così almeno potete cambiare E decidervi Scala reale Bardo Motociclista Motociclista Sì Motociclista Bardo Scala reale Ditemi voi Ditemi voi Allora vi lascio ancora qualche secondo Tra poco chiudo il televoto Ve li faccio rivedere Scala reale Ormai ce li sogniamo la notte Questi Bardo Motociclista Bardo Bardo Scala reale Motociclista 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 Bardo Scala reale Basta Allora Chiudo il televoto Tra Dieci secondi Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Due Uno Chiudo Ufficialmente Il televoto Fischia ragazzi Però non c'è Non c'è Due Un pareggio Ma perché Fischia Lo fate apposta Cazzarola Allora faccio minatore Che c'è i baffoni Cioè È un po' sì Ma la bestia cos'è Ragazzi Guardate qua La bestia Ma che è Super Mario Sì 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 Adesso guarda Chi è Grazie Lorenzo Per i due Spleuri Buona serale Sempre al top Grazie Lore Come stai Bello Grazie Milla Lorenzo Che Ogni volta Lorenzo Ad ogni live Il caffettino Con la brioche Lo offre sempre L'altro cos'era Scala reale Perché Bardo Aveva completamente Perso Ok Stavolta però Ragazzi Lo faccio durare Di meno Ho votate Subito tutti Conto fino a 20 Conto fino a 20 Questa è la bestia Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ve li faccio rivedere E poi altri dieci Scala reale Qual era l'altro? Motociclista E oggi abbiamo Oggi Adesso abbiamo aggiunto La bestia Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Intanto vi ringrazio Perché siete in 60 Circa E ci stiamo divertendo Dai ragazzi Continuiamo così Allora Vediamo come va a finire Qua la situazione Fine Fine eh Sospendo Ancora cinque Uno Due Perché vedo che state ancora votando Uno Due Tre Quattro Cinque Come Scala reale No No raga No 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 Lo fate a po' Lo state facendo apposta E quindi non ci sarà più possibilità Stavolta vi frego io Avanti 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 Stavolta vi frego Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Chi non mette like è uno strudel Sette Tre Otto Nove Dieci Ok la sfida questa volta è tra la bestia e scala reale Questo è scala reale E questo è la bestia Ok altri dieci Poi basta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ok Stavolta è palese però ragazzi è palese cioè non si può dire no Scala reale era 65% Ok non so perché non è venuto fuori il risultato Però l'avete visto Come mai avete votato tutti scala reale Non vi piaceva questo baffettino così Storno Faccio da cagare Si dissocia sabbo Dissociation Mi piaceva se era più corto Ah beh quello Dai oh Questo scala Dai ragazzi Cioè 66% Allora quindi Scala reale Perfetto Andiamo e iniziamo a giocare Mi piace la barbetta Adesso Adesso Ma non stiamo facendo quello Sto facendo il colore del Del pizzetto Perché mi cambia il colore dell'intera pelle qua Il naso com'è Probabilmente possiamo andare raga Abbastanza figaccione Cioè più di così non credo Di poter fare Dai Pum 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 Ok fatto Vai Ah Sono già io Nora Ehi tesoro Arrivo tra un minuto Ma non c'è la tua faccia allo specchio Nora Ma che c'è Ok Mr. Andy Abbiamo tutto in realtà Cioè noi dovremmo essere una famiglia ricca comunque Perché Abraxo come potete vedere Come nella serie tv Allora vediamo Buongiorno signore Il suo caffè A 78,6 gradi centigradi Preparato alla perfezione E il giornale di oggi Appena consegnato Grazie Codsworth Allora vediamo Dov'è che mi ha messo il giornale però Eccolo qua Fumetto di Grognak Grognak il barbaro è la giungla dei bambini pipistrello Il mio preferito Come la giungla dei bambini pipistrello Oh il giornale che dice Sempre le stesse notizie E chi se ne frega Ma gli sta andando a cambiare il pannolino Oh Si goda il suo caffè signore Ciao bambolino Ciao Si cambia il pannolino questo qua con la seghe elettrica Al posto delle mani Come te lo cambia il pannolino Porca miseria guarda Non si preoccupi dei piatti È il mio lavoro Ma dove è che hanno suonato? Ala Buongiorno Siamo della Voltec Buongiorno Buongiorno Vero? Guardi che cielo là fuori Voi non sa quanto sono felice Di poterle finalmente parlare Sono giorni che ci provo Si tratta di una questione Della massima urgenza Gliela assicuro Vediamo Ora sono qui Infatti Infatti Ora io so che è un uomo impegnato E quindi non le ruberò molto tempo Il tempo è una Una merce preziosa Sono qui per informarla che In virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese Per vostra fortuna siete stati scelti Per l'accesso al Volt locale Il Volt 111 Qu'è successo ragazzi? Lorenzo ha regalato un abbonamento A Stefano Turchato Grazie Lore Un bacione Non ci vorrà Molto tempo Ti tranquillo Sto ringraziando che hanno regalato un abbonamento Te ne stai calmo lì alla porta? Se vuoi vendermi qualcosa Te ne stai lì Aspetti che sto ringraziando Grazie Grazie Lore Fantastico ragazzi Siamo a 39 abbonamenti A 60 abbonamenti Lilienia Sa perfettamente Che a 60 abbonamenti Rigiochiamo in live Tutto Hogwarts Legacy Vado un po' di fretta Con un Tasso rosso Ma ci sarà spazio Per tutta la mia famiglia Vero? Ma certo Ma certo Tranne il suo robot naturalmente In effetti Siete già autorizzati all'accesso Si tratta solo di verificare Alcune informazioni Non vorrei che ci fosse Vero problemi In caso di Annientamento atomico Imprevisto Ci vorrà solo un minuto Mi parli di questo Volta Oh possiede tutte le comodità Di una casa moderna Gliel'assicuro Per non parlare Della protezione totale Da radiazioni nucleari E mutanti ostili Un futuro migliore Sottoterra Non è solo una missione È una passione D'accordo Procediamo Splendido Splendido Adesso Vediamo Ok Modulo di registrazione Vabbè qua Non stiamo la Cercare i nomi Andiamo sul sicuro Forza Allora La forza E la misura Della tua potenza fisica Influisce sul peso Che puoi trasportare La percezione Rappresenta la capacità Di adattarsi all'ambiente Ok Influenza la precisione Con lo spav Assolutamente Iniziamo a mettere Un punticino qua La costituzione La costituzione Misura la tua forma fisica Generale Influenza la salute totale E il consumo Di punti azione Quando scatti Anche questo è importante Perché poi Lo spav È Praticamente Misurato Con i punti azione Quindi se io Ho pochi punti azione Posso fare poche cose Con lo spav Il carisma È l'abilità Di influenzare gli altri Nel convincere la gente Il numero di punti Esperienza Guadagnati Le tue capacità Sperimentali Agilità Determina il numero Di punti azione Con lo spav Ah però Vedi che qua Hai punti azione Con lo spav Costituzione Che cos'è Quando scatto Quindi per lo spav È questo Mettiamolo qua Fortuna Adesso non me ne frega niente Allora io dire Quasi quasi Potremmo fare Un personaggio Completamente Dedicato allo spav Sapete Cioè praticamente Lo spav È quando tu vai A La modalità Di mira Con i vari punti Che puoi colpire Noi facciamo Praticamente Un cecchino Facciamo Il cowboy Creiamo il personaggio Cowboy Il cecchino Con lo spav Cosa ne dite Potrebbe piacervi Come idea Sarebbe Percezione Adattarsi All'ambiente Il tuo sesto senso Influenza La precisione Con lo spav Cioè non Non l'ho mai fatto Di solito mettiamo Tutto 3 3 3 2 4 Ma provare a partire Con un 10 10 Cosa ne dite Ciao Ile Ma chi è che sta salutando L'Ilea che è arrivata 10 ore fa Io ho detto pure Ma perché urli tu Ma perché urli tu Perché urli tu Che c'hai la Il caps Grazie Angelo Grazie mille Bello Buonasera Ale Sei il migliore Non ho mai donato Sui video Ma per te Lo faccio volentieri Perché sei di una Simpatia assoluta Grazie Bello Grazie mille Grazie 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 davvero Ok io spero Che si veda bene Ragazzi Sta vedendo bene Tutto a posto Perché poi mi da un avviso Sul bitrate Che è fasullo Però Se voi lo vedete bene Vado avanti Grazie Grazie mille Bello Grazie mille Grazie ad Angel Allora Che ne dite Se facciamo questo personaggio Un po' così Cioè Partiamo subito Immediatamente Con uno che È il king Dello spav Praticamente Cioè che Non Non può sbagliare La mira In teoria Ragazzi Mettete like Siete in 70 Mettete like Ragazzi Oh Vi sta piacendo la serie Su Assassin's Creed Black Flag Domani c'è già Il terzo episodio Quindi Quindi se stasera Quando finisce questa live Riuscite a recuperare Il secondo episodio Domani andiamo già Col terzo Metti 9 agilità E almeno 2 Costituzione Costituzione Cos'è Influenza La salute totale E il consumo Di punti azione Quando scatti Facciamo 9 agilici Allora È perché voglio fare Una roba diversa Abbiamo sempre fatto Tutto Precisissimo 3 4 2 1 Stavolta vogliamo Fare il cowboy Cioè quello che Con lo spav Non sbaglia Un colpo Lui è solo Ed esclusivamente Bravo A sparare Punto Non sa fare Nient'altro Quindi Percezione 10 Influenza la precisione Con lo spav Costituzione Perché Sabbo Ce l'ha lanciata Perché giustamente Dice Oh La salute totale Che fai Non l'aumenti un po' E agilità Sono i punti azione Con lo spav Che però potremmo Ammettere anche a 8 Questi Perché la nostra idea Era proprio la precisione Quindi Questi possiamo Metterlo anche a 8 Piuttosto andrei A 2 di intelligente No Anzi Di più Posso andare Ragazzi Posso andare Allora L'intelligenza rappresenta Dove l'influenza E il numero di punti Carisma anche Per convincere la gente Forza per il trasporto E andrei ancora di carisma Dai Raga Così Random Chi se ne frega Dai andiamo Però siamo molto precisi Con lo spav E abbiamo parecchi punti azione Quindi Non sottovalutiamo Il nostro pistolero In questo caso Magnifico È tutto Devo solo consegnarlo Al Volt Congratulazioni Per avere protetto Il vostro futuro Grazie ancora Ehi È una sicurezza in più Farrà pure Qualche scartoffia No? Per te Sean Non esiste prezzo Troppo alto Ottima risposta Ho i miei momenti Ho cambiato Sean Ma si rifiuta ancora Di calmarsi Credo che abbia bisogno Di un po' Del suo affetto paterno Hai sentito Codsworth Va pure È ovvio che poi Quei punti lì Sono solo di partenza Poi ovvio che Si Aumenteranno Ehi che succede? Come stanno i due uomini Più importanti Della mia vita Gira un po' Quella giustrina Va ad ora Come sta il mio piccolino Molto meglio Ascolta Pensavo che potremmo Andare un po' Al parco Dopo colazione Il tempo dovrebbe reggere E perdermi la partita in tv Non credo proprio Signore? Signora? Dovreste venire a vedere Codsworth Che succede? Seguito da Sì Seguito da lampi Lampi accecanti Suoni di esplosioni Stiamo Stiamo cercando di ottenere conferma Grazie Ile Sembra che abbiamo perso i contatti Con le stazioni Mettete like almeno Barboni Stanno Abbando Rapporti confermati Rapporti confermati di esplosioni nucleari A New York E in Pennsylvania Oh mio Dio Oh Oh mio Dio Dobbiamo andare al volta Subito Ho preso Sean Andiamo Fischi è esploso pure lui mi sa Perché Il fumetto Il fumetto Il bimbo l'ha preso Ok andiamo Codsworth Addio amico mio Oh arrivo Che ansia Vieni dai col bambino Chi è che è caduto qua Il guantone Grazie sergente Snelli Andiamo no Rao Evacuate immediatamente Verso Lascia le valigie Che importa Aiutami a portare tutto Andate a cagare Andiamo Lasciali lì Presentatevi al cancello Se siete nel programma Potrete entrare Se siamo nel programma Ho firmato prima È assurdo Io sono la volta Non puoi entrare Io entrerò Non potete fermare Ok ok Farò rapporto Se siete nel programma Fate di avanti Altrimenti tornate a casa Ma questo è quello Che ci ha fatto firmare E non lo fanno entrare Sei registrato o no Non siamo nel programma Dobbiamo entrare Siamo sulla lista Bambino Uomo adulto Donna adulta Ok procedete Buona fortuna signora Voi due Seguitemi forza Che ne sarà Di tutta quella gente Fuori dal cancello Stiamo facendo tutto il possibile Non vi fermate Di qui Oh L'ansia che ci affligge Gente che va in via Salite sulla piattaforma Al centro La cacarella Ci siamo quasi Ce la caveremo Vi amo Tutti e due Ti amiamo anche noi Oh mio dio Vieniti Questa cosa non può andare più veloce Oddio 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 Che brutta ro Che brutta ro È fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo al sicuro Scendete tutti dall'ascensore E salite con calma le scale Non dovete preoccuparvi Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa Il Volt 111 Un futuro migliore sotto terra Quindi dobbiamo Sì salire le scale Non posso crederci Se fossimo usciti un minuto dopo Saremmo tutti Non dovete pensare a queste cose Ora siete al sicuro Salite quelle scale E proseguite oltre quella porta Sì ma siamo in cinque Gianni Tutti gli altri dove sono? Eh non faccia così Non fate così ragazzi Qua hanno anche i bagni Sì La Voltek è qui per voi A tutti i nuovi residenti Per favore procedete con calma Benvenuti a casa Prendi una tuta del Volt E prosegui nella sala Donna e bambino Laggiù prego Bene Laggiù Prendi una tuta Avvicinatevi al tavolo Una tuta del Volt Ora prosegui nella sala Prendetene tutti una Le vostre nuove tute del Volt Che bella In fondo a quel corridoio Laggiù Grazie E adesso? Segui il dottore Ti farà vedere dove andare D'accordo Voi tre Seguitemi Vedi? Questa è la nostra nuova casa Oh vi piacerà È una delle nostre strutture più avanzate Non che le altre non siano magnifiche Entendiamoci È andata La nostra casa Tutte le nostre cose Mia madre e mio padre a vuoi Quanto pensa che resteremo qua sotto Verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento Ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici Non c'è bene Non credi Spolverò i nomi Ma mano che intuare Per essere non solo confortevoli Ma anche alla moda Pronti per il futuro Giusto? Sali qui sopra E indossa la tua tuta del Volt Qua si va subito Congelati Capito? Si va subito nel futuro Raga come si vede Che ho visto qualcuno Che diceva che Gli si bloccava Tutto a posto? Si vede bene? La capsula ti decontaminerà E depressurizzerà Per poter poi procedere nel Volt Rilassati Inizia una nuova vita Residente al sicuro Segni vitali Normali Procedura completata Tra Cinque Quattro Tre Due Uno Scusate Ma quella si addormenta Col bambino in braccio Gli cade Ma com'è che Ma che è sta luce? Ma questa qui cosa? A quella Andrà tutto per Vieni qui Vieni qui No È mio figlio Lascia andare il bambino Non te lo ripeterò Non ti darò Ma non ha senso Ma non ha senso Ma c'era bisogno Non ho capito Fuori dal tempo Forza Deve esserci uno sblocco Avanti 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 Dio mio Troverò i colpevoli Riporterò a casa Sean È una promessa Troverò i colpevoli Riporterò a casa Sean Ma quale casa? Non c'è più una casa Gianni Svegliati Forza Mi si arricchiudiamo Si può chiudere Avaria Nella stazione Criogenica Tutti Avaria Nello sblocco Manuale Della capsula Criogenica Che cazzo Non si possono Liberare gli altri Nora e Sean Neonato Alle Miracle Signor Russell Signora Abel Signora Abel Signor Callahan Signora Callahan Capsula 1 Vuota E allora Vaffan bro Ma porca misera Sono l'unico Che si è scongelato Ok Ho lo steampack Niente Non credo di poterle Aprire le altre No Niente Non posso Sbloccare le altre Scatola di sigari Accendino Tazza da te Avaria Critica Nella stazione Iresi Devono abbandonare Immediatamente Il vault Oh merda Ma non mi hanno dato Neanche una pistola Ci sono gli scarafaggi Radiattivi Porca miseria Ma non c'è un'arma? Schedario Portablocco Sigarette Avaria critica Nella stazione Criogenica Tutti i residenti Devono abbandonare C'è uno scarafaggio Radiattivo Ragazzi Poi metto a correre Dentro lì dentro Chiudi 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 Come cazzo E' pieno Scarafaggio Giganti Ma che Ok c'è C'è questa cosa qui Che dalle scossettine Elettriche Dovrebbe colpirli In caso Ok Vado L'ha preso L'ha preso Manca l'ultimo Ma tu Ma tu non hai una pistola C'è la trota Dio dio Dai dai Prendilo 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 Un'arma Un'arma Qualcuno Sono bravo io Con lo spav Arma Tutti ceffi Della merda No Meglio questo Che Più vicino Avete visto La precisione Con lo spav Tiè Carne di scarafaggio Radioattivo Se la mangia Tua sorella Allora ragazzi Finalmente Porca miseria Allora A parte che abbiamo Cos'è successo qui Dove sono tutti Fatti due domande A proposito Raga Posso mettere Gli steampack Ma non c'è Un Peep boy Il Crioletor No il fatto è che Dove stava il Crioletor Ragazzi A parte che io volevo Prendere il gauss Che era il fucile Più forte Però devo finire Tutta la missione Dei minutemen Se non sbaglio Dopo capirete Oh ma è qua Il Crioletor E' inutile Che mi porto Dietro due pistole Piuttosto Le munizioni Scatola di sigari E ardua Non me la fa neanche Aprire ragazzi Se solo avessi Una forcina No ma Anche con la forcina Non me la fa aprire Perché ardua E' troppo difficile Munizioni Basta Vabbè Vabbè Poi in caso Volt 111 Torniamo a prendere Il Crioletor Però per adesso Non credo ci sia qualcosa Qua non c'è niente Ci sono gli occhiali Niente Dai andiamo Eccolo qua Comunque C'è anche la terza No Più avanti Allora Vediamo se riesco A colpirli tutti Uno l'ho mancato Forse due l'ho mancati Oh fischia Ok ricarichiamo Aspettiamo un po' Che si ricarica Sta arrivando uno Allora i numeri Che vedete sopra Sono la percentuale 95% Potevo prenderlo 86 munizioni Per adesso Questo 77% 95% Merda Era il 95% Però Ok Quello è più grosso Però Ok Occhio Io continuo a sentirli Che camminano in giro Che schifo Ok Siamo quasi fuori Ragazzi Oh preparatevi Non scrivete Cagate Mentre sto uscendo Perché quelle Da vedere Non è rimasto nulla Altre munizioni Torno in In prima persona Perché mi trovo meglio Questa è l'uscita Vedete che c'è L'ingresso Chi è? Porca me Oh guardate il P-Boy Ragazzi Oh Momento importante Va? Questo lo lasciamo verde Dai Vediamo Anche se sul giallino Si vede meglio Ok Abbiamo solo la pistola Vestiario Abbiamo solo L'anello nuziale La tuta del volta Abbiamo gli steampack Gli steampack Li mettiamo Ah è già in basso Perfetto Perfetto La pistola a destra Perfetto Ok andiamo Grande che abbiamo Il P-Boy ragazzi Ah Ehm Io sono arrivato Da qua Quindi quella È l'uscita Fatemi vedere Un attimo Cosa c'è di qua Ah no Ok Ok Niente È il collegamento Da dove siamo arrivati Questa è l'uscita Pronti ragazzi Stiamo per uscire Concentrati Concentrati Seguenza ciclica della porta del Volt Attivata Si prega di allontanarsi Occhio Che bello Che bello raga Questa è l'uscita Questa è la part 災értica Questa è lì Questa è l'uscita Grazie a tutti. Grazie per aver scelto VOLTEK. Robbe. Pronti ragazzi, pronti perché adesso inizia il casino, eh? Non ci vede più una cippa, si deve abituare. Wow, raga. Allora, questa qua è la città in teoria che abbiamo... Questa è casa nostra. Che è Sanctuary, no? No, Sanctuary è più avanti. Dov'è che era Sanctuary? Forse è qua. Vabbè, intanto andiamo verso casa, dai. Allora, la strada... Boh. Eh sì, noi siamo entrati così. La bomba esplosa di là. Verso di là. Questi erano i soldati. Pensate. Partiamo benissimo. Bottie di Nuka Cola. Vediamo. Allora, Radix. Acqua purificata. Più che altro il Radaway ci serve. Ok. Radix. Mano di Deathclaw? Ma come? Vabbè. Tiriamo fuori la pistola che non si sa mai. Tappo. Ok. Andiamo, ragazzi. Che figata. Ci siamo. Ci siamo. Continuate a mettere like che arriviamo a 100. Dai, ragazzi. Non mollate. Allora. Non so se la strada era questa che abbiamo fatto, però, eh. C'era tipo una sorta di... Allora, poi siamo saliti di qua. Eh sì, mi sa di sì. Perché questo era il cancello. Dove c'era la gente bloccata qua. In teoria. Pensate. Era qua, ragazzi. Era questo è il cancello. E infatti, come potete vedere... Quella gente lì... Non ce l'ha fatta. No, camionista, non ti preoccupare. Faccio io. Non ti preoccupare. Adesso ce lo dice... In teoria dovremmo trovare qualcuno... Dai, non vi spoilerò niente. Ok. Qua siamo a casa, vedete? Sanctuary. Ok. Casa mia... Era... Una di queste a sinistra. Eccola qua, questa qua. Per tutti gli ingranacci... Oh... È... È davvero lei! Sei ancora qui? Codsworth. Sei... Ancora qui. Quindi... Potrebbero essere sopravvissute altre persone. Beh, certo che sono ancora qui. Non avrà pensato che qualche radiazione potesse fermare l'orgoglio della General Atomics International. Ma lei ha un aspetto terribile. Meglio che sua moglie non la veda in questo stato. A proposito, dov'è la signora? L'hanno... L'hanno uccisa. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io... Io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Oh, è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi! O magari la charada. Sean adora quel gioco. Il piccolo è... Con lei. È sparito, cazzo. Qualcuno l'ha preso. Hanno rapito mio figlio. Peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo. Temo. 200 anni? 200 anni. Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che hai un ritardo per la cena di due secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamato. Codsworth, ti comporti in modo un po' strano. Che c'è? Io... Io... Ho secoli senza nessuno con cui parlare. Nessuno da servire. Ho trascorso i primi dieci anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti. Ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla. E non le dico. La futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina. Come si può lucidare la ruggine? Ma che stai impazzendo pure lui? Che cosa sai, Codsworth? Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh... E' accaduto tutto. Un olonastro. Cosa contiene? Credo che sia un messaggio privato per lei. I miei protocolli di etichetta non mi hanno permesso di ascoltarlo. C'è un messaggio privato? Il lettore di un olonastro dovrebbe riuscire a riprodurlo. Oh, come quel big boy che ha al braccio. Dovrebbe funzionare. Ora, basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signora e il piccolo Sean. Non resta più nulla. E' tutto perduto. Beh, se vuole avventurarsi verso l'ignoto non lo fermerò. In sua assenza resterò di guardia nel quartiere. C'è un olonastro però, eh? No. Dai, forza. Bravo. Ciao, tesoro. Ascolti. Ma no. Non serve che io e Sean ti diciamo che sei il papà più bravo del mondo. Ma lo facciamo lo stesso. Sei gentile, affettuoso. E simpaticissimo. Ah, proprio così. E paziente. Molto paziente. Dai. E la pazienza di un santo, come diceva mia madre. Stare tutto insieme con Sean. E' stato un anno fantastico. Però sono convinta che il meglio debba ancora arrivare. Ci saranno cambiamenti, certo. Grandi e piccoli. Tu tornerai a lavorare da bravo cittadino, mentre io dovrò rispolverare la mia laurea in legge. Ma tutto ciò che faremo, per quanto impegnativo, lo faremo per la nostra famiglia. Adesso saluta, Sean. Ciao, ciao. Sai dire ciao, ciao? Ciao, tesoro. Ti adoriamo. Ok. Quindi l'obiettivo primario è trovare sto bambino. Allora, non ci sono chissà che possibilità, quindi dobbiamo andare per forza con lui a girare... Ehi, Codsworth. ...il quartiere. Attendo il suo ordine, signore. Cercheremo insieme la sua famiglia. Che però non servirà a nulla. Che pensate che il bambino è qua nel quartiere? D'accordo. Fammi strada. Lieto di servirla, signore. Rilevo se quinta volta no. Cosworth. Ma che cacchio era? Del movimento in un'altra casa? Sì, basta che non è un'altra mosca. Zio Cosworth, guarda. Attenzione. L'altro insetto da schiacciare. Lo prendo da qua? Sì, di no. Eh, vaffan brother, fai tutto tu. Spettacolo. Ok. Quindi il movimento erano le mosche. Sono... Sono davvero spariti, quindi... Sean è là fuori, Cosworth. Devo trovarlo. Che ne dice di Concord, signore? Ci sono parecchie persone lì. L'ultima volta che ci sono stato mi hanno soltanto punzecchiato un po' con dei bastoni prima che corressi a casa. C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud fuori dal quartiere e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò via a difendere il fronte interno. Quindi Concord, eh? Allora, vediamo un po'. Concord è qua. Non è lontano. Possiamo andare piano piano, dai. Ho trovato neanche un vestitino, però. È quel momento per i leni. È quel momento. Lì c'è il ponte. Andiamo sul ponte. Che ovviamente quest'acqua è radiattiva. Si blocca. Oh, raga, ma ditemi se si vede male o si blocca, eh? Come va? Come state messi? Sinceri. Scrivetemi sinceri come va la live. Io intanto vado a Concord. Ok. Ma che bello. Ho detto va che bello, poi mi giro. E vedo queste cose. Beh, ragazzi. Lo steampack lo prendiamo, eh? Ok. Non gli rubo i vestiti perché voglio rimanere per adesso con la tuta del vault. Allora. Io sincero, tutto perfetto. A me non si blocca. Io ti vedo bene in tv. Io sento solo il volume del gioco un po' basso. E dipende dai momenti. Cioè, tipo, secondo me se ci sono... Tipo sparatori e robe così, si sente di più. Allora, vediamo. Aspetta. Red Rocket. Il cane, raga. Il cane. Il cane. Ciao, Patato. Ehi, bello. Che ci fai qua fuori tutto da solo? Eh? Hai perso il tuo padrone, bello. Ok, allora. Vieni con me. Dai. Oh, aspetta. Stai fermo. Ehi. Dobbiamo stare attenti, però, eh? Oh. Ma che è sta musica? Steampack? Steampack. Stai attento, eh. Non ti far sgagnare. Dove che cazzo? Ma così si aprono le porte. Vai piano. Vieni. Cosa c'è? Ma cos'è... Cos'è sto burbato? Porco schifo. Porco schifo. C'è un altro sicuro. Ma uno qua vicino non c'è. Ne ho visto uno qua sotto, raga. Perché non me lo punta? Ma do, ma son dappertutto. L'ho presi tutti? Fischia. Oh. Mi voleva fregare, oh. L'abbiamo fatto pistolero. L'abbiamo fatto cowboy. Anzi, dobbiamo trovare delle armi e dei vestiti giusti per... Per il nostro cowboy. Che ha una mira incredibile. Questo cos'è? Tappi. Buono. Chi c'è ancora? Ma che schifo è? Ma basta. Ma non credo che ci sia roba da bloccare, da sbloccare. Ho capito, raga. Ho capito. Mi sa che vi sto streamando in 2K. Per quello forse vi si blocca, raga. Andate a vedere, mettete 1080p. Provate a vedere. Forse vi si blocca per quello, raga. Mi sa che vi sto streamando a 1440. Allora, andate sulla rotella dell'ingranaggio e provate a mettere 1080p. No, ho preso una pistola che non mi serviva a niente. Ce l'ho già. Si impacca. Dove stai? Vieni con me tu, vero? Ma penso di non poter fare niente perché non ho nulla. Eh. Non posso fare modifiche. Sì, sei in 2K. Eh, porca miseria. E' per quello allora che vi va a scatti, ragazzi. Che cazzo. A me il cane mi fa cagare addosso, però. Oh, l'abbiamo fatti fuori tutti, eh. Ma vi crea problemi questa cosa del 1440? Cioè, si vede a schifo? Il secondo episodio lo facciamo... La prossima live la facciamo a 1080, dai. Così siamo più tranquilli. Allora, io a questo punto andrei a Concord, visto che qua abbiamo fatto. Vieni. Stai con me, oh. Madò, che è quello schifo? Allora, c'è. Un ramino, cos'è? E ci sono delle zanzare giganti che se lo stanno zucchiando. Gli stanno zucchiando tutto il sangue, che schifo. Aspetta, Lessi. Sì, guarda, non mi faccio problemi. Ti continuo a colpire finché... Ok. Wow! No, c'è un'altra! Fischia! Che schifo. Questo è Concord, ragazzi. Aveva detto che c'era gente a Concord, però, eh. Codsworth. Giusto? Tappi. Nuca-cola quantum. Sugar bombs. Abbiamo qua, ok. Un po' po'. C'è il piano di sopra. Controllo quattro cose, ragazzi, eh. Magari... Questa. Mentas buff. No, magari ci servirebbero dei Radaway. Così, in caso prendo le radiazioni, posso togliermele. Concord. Questa è chiusa. Stanno sparando a nastro. Dove sparano? Porca miseria. Cioè, rendetevi conto, ragazzi, dove siamo. Ciao, Adalzo, benvenuto. Ragazzi, mettete 1080p, perché... Allora, vediamo cosa sono. Sono predoni, sono predoni. Eh, ma vorrei nascondermi... Sì, ma almeno faccela vedere la kill, oh. Uh, ma che mira c'ha? Oh, zio, io ti ho aiutato, eh. Non spararmi. Sono io. Non spararmi. Secca da biliardo, gamba... Gamba destra da predone la prendiamo. Non spararmi, eh. Eh, ci provo, dammi un attimo. Sto prendendo robe. Pistola, tirapugno, occhiali da saldatore. Braccio sinistro in cuoio, ok. Sto prendendo un po' di protezioni, eh. Aspettate. Tappo, munizioni. Prendiamo anche la pistola automatica artigiana. No, tanto adesso ci dà il moschettino. Maschera antica, braccio sinistro. Maschera antica, se non si sa mai. Allora, vediamo se posso già mettere qualcosa, ragazzi. Allora, in teoria dovrei poter mettere le protezioni sulla tuta. Non mi ricordo com'era la cosa. Ah, ecco. Ok, sulla tuta dovrei poter mettere le protezioni. Quindi, se io faccio... Inventario, bestiario. Braccio sinistro. Braccio da predone. Ah no, è meglio quello in cuoio, però. Gamba destra da predone. Ok, la maschera per adesso non la mettiamo, perché tante ho. Ok, vediamo. Sì, l'ho messe. Spalla e gamba. Ok, perfetto. Perfetto. Tu cos'hai? Beh, torace da predone anche no. Ok, eccolo qua, il moschetto laser. C'è la diffusione, probabilmente. Allora, la cella diffusione deve essere per il moschetto. Per adesso il moschetto lo mettiamo a sinistra. Ok. Andiamo. 33 celle di diffusione. Ah no, eccole qua. Ma che culo. Erano per terra. Ok. Andiamo. Andiamo ad aiutarlo. Pronti, 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 pronti. Ma no, non prendo tutto, ragazzi. Perché tanto il gioco lo conosco, cioè. Porca me. Ah, meglio il 61. Ok, quello l'ho preso. Al 61% è meglio. Chi è che spara di qua? Ah, è sempre lui. Eh, non riesco a prenderlo da qui. Porca me. Porca me. Non riesco a prenderlo da qui. 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 Ma pensa a te. Chi è? Grazie, Marco. Impazzito completamente, Marco Bianchi. Grazie, Marco. Ma un bacione. Grazie mille, Marco. Troppo buono. Non dovevi. Non dovevi. Spammati i regalini. Spammati i regalini. Grazie, grazie, Marco. Grazie mille, dai. Non dovevi, eh. Solo i quotanti si nascondono. Grazie. Grazie, Marco. Ah, quindi volete che rifaccia Hogwarts Legacy a 60 abbonamenti. Svegliatevi, uomini del Middlesex. Arriva l'esercito del... Stai calmo, stai calmo che andiamo avanti adesso. Che cazzo è stato? Eh, sono io. Ma dove sta qua? Ah, è ancora il piano di sopra, raga. O faccio così, tipo una corsa. Dov'è? Eccolo. Ma che mira di merda. Fischia, ragazzi. Che mira. Vediamo se si affaccia di qua. Bella. Ma che scatto ha fatto? Ma dai, ma non ci credo proprio. Grazie, Marco. Ma poi l'upgrade... L'upgrade next gen lo vediamo insieme. Fischia, raga. Questo è bravissimo. O gli faccio il giro o sono fregato. Vediamo. Scatola di tappi. Ah, non posso fare il giro. Oh, ma questo ce l'ha con me, oh. Jet. Quello è Preston. No, chi è che è? Apparizioni, sparizioni. Ma che si chiama? Preston, cazzo. Porca puttina. C'ho provato. Ti va di giocare. Oh, ma il cane... Ma che so ste musichette? Gamba sinistra ho preso anche, eh. Vediamo. Non dovrei averla la gamba sinistra. Ho gamba destra, gamba sinistra in cuoio. Perfetto. Qua. Punizioni. Qui cosa abbiamo? Oh, finalmente. Ora ti vengo a trovare a te. Non smetti di nasconderti qui. Dove sta? Oh. BAM! Porca... Porca... Poi vediamo cosa buttar via, eh. L'ho fatto centinaia di... Ma pianta la cos'è che fa... Ma pianta la cos'è che fa... E' morto malissimo questo. Forza! No, aspettate ragazzi. Oh, devo prendere robe io. Dentro! Arrivo! Arrivo! Eccomi! Eccomi! Non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Non ci siamo. Minuteman? Siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto? Dannazione. Era questa l'idea. Quindi... Sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma... Forse... Le cose sono degenerate. Eh, no. Ora, pare che io sia l'ultimo Minuteman rimasto. Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa. Di un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa, eravamo in venti. Ieri eravamo in otto. Ora, restiamo in cinque. Io, Ilong, Marcy e Jun, e quella sul divano è Mama Murphy. E questo è Sturges. Bene. Ghoul. Che cosa sono i ghoul? Oh, vedo che non sei di queste parti, eh? I ghoul sono... persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Non ci siamo. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora... persone. Quelli di cui parlo sono diversi. Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono, ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni, quei predoni ci hanno smentiti. Ma... beh, abbiamo un'idea. Sentiamo. Sturges, diglielo. Un vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Mi piace. Sì, lo immaginavo. Protezione più un piccolo bonus. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai. Ah, potrebbe funzionare. Funzionerà. Sempre se riusciamo a riattivare l'armatura. È senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata. Ma su questo punto siamo un po' bloccati. Com'è andato via l'audio? Impossibile, raga. Andate via l'audio. Se posso vi aiuterò. Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. E sappiamo dove trovarne una. È giù nei sotterranei. Chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta. Io riparo le cose. Le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Perfetto. No vabbè allora da adesso in poi mi fido solo se... Me lo dicono quei due o tre di cui mi fido. Perché se no ogni volta c'è qualcuno che o perde l'audio. O non si vede bene. O scorreggia. E lì passa di fianco un suo parente e gli scorregge in faccia. Cioè non è mica colpa mia. Allora... Salve. Ok. Non può essere così difficile. Vedrò cosa posso fare. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. Buona fortuna. Sei quello che mi ha... Attento. Bene. Solo attraverso l'osservazione è possibile percepire la debolezza. La tua percezione è permanentemente aumentata di uno. Che è già gran roba, eh, ragazzi. Perché l'avevo già alta. Allora, mi aglioso. Ci ritroviamo un abitante del Valvo. Che cosa farai con quella stupida tussa? Morirai con stile? Sì. Hai trovato un numero di Rob Coffan. Include il gioco su lo nastro Atomic Command. Ascolta. Sturges sarà anche grosso. Ma non è bravo in combattimento. Ok. Devi farlo tu. Managgia qua, ragazzi. Va bene. Scegli una possibile password. Ok. Premi X per inserire. Se la password inserita è sbagliata sullo schermo avrà mostrato il numero di lettere che corrispondono esattamente sia come lettera che come posizione. Ok? Quindi, per esempio, se io dico keeps, giusto? Lui mi dice affinità 1. Una di queste lettere sia giusta che nella posizione corretta. E allora potrebbe essere once. Perché la S è finale. Affinità 4. Quindi praticamente è quasi uguale a keeps e wants. Però affinità 4. Quindi vuol dire che 4 lettere di wants sono giuste. E quindi... E waits per forza, ragazzi. Dai. Per forza. Capite come funzionano le password qua? Affinità 4 con wants. E per forza waits. Cioè non ce n'è. Per forza. Bene. Eh. Sblocca. E qua prendo il nucleo per far funzionare l'armatura. Ok. Ora devo tornare su. Molto su. Ah. Eh. Devo andare su. Quindi le scale dov'è che erano, raga? Dall'altra parte? Di qua? Vacca miseria mi son perso. Oh. Però son lì le scale. Cioè non è che... Il lato giusto è questo. Il ribaltone. No. Ho aperto la porta ma ho buttato di sotto. Che è sta roba? Ah. Le sigarette. Scatola di forcine. Bella. Bella, 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 bella. Fermiamo l'occupazione inglese. Caspita, son tornato di sotto. Riprendetevi il vostro te, da merini. Ricordate, ragazzi. Due se vengono da andare. Forza dose. Corriamo a Lexington. Ragazzi Renko che Adams. Svegliatevi, uomini del video. Ok. Che c'è qua? Tortine. Qui? Non era entrato? Ok, dovrei esserci, eh. Dovrebbe esserci qua l'armatura atomica. Che sarebbe poi quella della confraternità d'acciaio. In teoria. Poi ce ne sono varie modelli. Eccola qua. Qua cosa abbiamo? Un olonastro. Qua da dove siamo arrivati. Ok. Dovrei inserire la... Merda. Nucleo di fusione. Guardate, guardate. Ha danneggiato però la gamba destra e il braccio sinistro. Questo devo staccarlo. Ok. Quassù, capo, c'è qualcuno quassù. Finito. Hai visto? Completamente blastato. Perché non scendi? Fammi dare un'occhiata alla... Devo riuscire a scendere, però. Forza, ho altro da fare. Devo andare lì. Ma in teoria dovrei riuscire, no? Se mi butto... A resistere. Perché con l'armatura atomica non dovrei avere problemi. Che cazzo... Che cazzo... Ah, ok. Deve essere rotto. Ci ha distrutto. Che figata, ragazzi. Anche perché poi non c'è l'irino. Che cazzo? Un death clone. Un death clone. Oh, ma pigliatevela con lui. Adesso muore male. Questi qua li prendo tutti quanti perché poi li vendo. Ma dove? Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. ce n'è più e piccolo arrivo steampak ecco qua dovrebbe aver fatto tutto ma porca miseria dov'è il cane? si ma caspita è già il secondo steampak oh stai vicino a me allora vabbè steampak recuperato beh effettivamente le munizioni non pesano ragazzi le prendo sempre perché ok al death club ho preso tutto possiamo tornare sopra che figata con l'armatura eh l'armatura atomica non sforzarti mamma stai bene sto bene presto ammettila di preoccuparti è stato uno spettacolo incredibile sono lieto che tu sia dalla nostra parte ah si? ora ve la caverete si almeno per un po' potremo trasferirci in un luogo più sicuro ascolta quando ci siamo conosciuti mi hai chiesto dei minuteman se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare gli amici quindi ecco per tutto quello che hai fatto grazie ok e ora cosa succederà da tempo mamma marfi ha avuto una visione su un luogo chiamato sanctuary un vecchio guardimento nella miracle innovation special club che non vieni con noi mi farebbe comodo il tuo aiuto eccoci faccina che abbraccia faccina sotto sopra grazie marco grazie mille per il rinnovo come stai marco? tutto a posto? ma c'eri già prima no? sei arrivato adesso faccina che cosa dovrei fare? dovrai restare forte come lo sei ora perché c'è altro nel tuo destino io l'ho visto e so cosa provi il mio destino che vuoi dire? sei un uomo fuori dal tempo senza speranza ma non tutto è perduto la sento l'energia di tuo figlio è vivo grazie mille grazie mille cioè allora lei sa che è vivo il bambino non puoi? dov'è mio figlio? dov'è Sean? ah vorrei saperlo davvero ma non posso vedere tuo figlio posso solo sentire la sua forza vitale la sua energia è là fuori e persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare nella grande gemma verde del Commonwealth Diamond City il più grande insediamento della zona ok il nostro prossimo obiettivo è Diamond City che cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù ascolta ora sono stanca forse se mi porterai delle sostanze le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara no mamma Murphy ne abbiamo già discusso quella robaccia ti ucciderà ma taci Preston prima o poi moriamo tutti avremo bisogno delle visioni e anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno ora va Sanctuary ti attende d'accordo gente grazie a questo provvidenziale aiuto la strada è sicura ci recheremo al luogo che mamma Murphy conosce Sanctuary non è lontano che conosce? che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe? e ora vorresti che partissimo per un'altra ricerca inutile è basata su mamma Murphy l'ha visto? beh ho certo andare peggio di aspettate calmatevi tutti siamo tutti sulla stessa barca giusto? quindi Marcy hai un'idea migliore su cosa dovremmo fare? qualcuno? bene dunque e Sanctuary sia speriamo solo che risponda alle aspettative forza June è tempo di andare oh ok ma che pantofole c'ha la signora? ma vi devo accompagnare ragazzi volete una mano? preferirei accompagnarli Sanctuary non è lontano ricordatevi il prezzo che abbiamo dovuto pagare per arrivare fin qui muoviamoci vado avanti io anche perché poi vorrei posare l'armatura Sanctuary ma siete lenti però ragazzi che cos'è ancora? ancora non ci credo che abbia fatto fuori quell'affare non ne avevo mai visto uno da vicino sono felice che sia morto vorrei posare l'armatura Sanctuary prima di andare a Diamond City tanto non è lontana ma se io ci vado col viaggio veloce li trovo già lì loro? può essere? ci proviamo? magari li trovo già lì eh può essere no c'è Codsworth loro non sono ancora arrivati posso aspettare però intanto posso posare qua la roba ok sì mi ricordo che questa è la nostra base dov'è che potevo posare la roba? trasferisci il mio inventario le mie armi il mio vestiario le mie provviste le mie varie i miei materiali ah vedete che però cuoio molla legno osso e cuoio ma sì io lascio tutto qua tanto dei tappi non me ne è mai fregato nulla ho sempre trovato tutto in giro allora prova a dormire e vedere se loro arrivano intanto posso posare l'armatura qua aspetta allora posso posare l'armatura qui in teoria eccola qua allora deposita 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 basta credo ma l'ho depositata o no però non la vedo di solito si vede l'armatura oppure dite che devo uscire dall'armatura dov'è missioni vestiario e no non c'entra niente oppure appare dopo come cavolo era l'uscita dall'armatura raga a parte che non ho nemmeno il casco non ho niente sapete che non mi ricordo come cavolo era togliersi l'armatura non credo da qua ciao dragon benvenuto fai trasferisci l'ho già fatto allora il mio vestiario deposita 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 e vedi che mi rimane la cosa brutta è che mi rimane addosso questa ma c'era un modo per uscire della tuta però filchia siamo fregati ragazzi qual è il tasto ok ma vaffan brodo va ho capito ho capito con la x ragazzi c'è più semplice e che cos'è e che cos'è allora facciamo così quindi trasferiamo di nuovo prendiamo di nuovo tutto lo montiamo su perché vederlo così è bruttissimo ok e poi usciamo così vediamo ma ma è brutto lo stesso perché comunque non sei vabbè è brutto che cos'è è brutto è brutto è brutto è brutto Ah, ho capito. Allora, nell'officina gli trasferisco la gamba rotta. Perché siccome è rotta non la posso montare sull'armatura. Mentre sull'armatura non posso farci niente. Hai capito. Come faccio a riparare quel pezzo lì che si è rotto? Vabbè. Ok. Oh, sono arrivati loro intanto, eh. Ah! Dov'è Preston? No, cacchio, c'ho sto robo. No, non lo voglio uno perché è troppo P. E due non me ne faccio niente, sinceramente. Non c'è una cassa? Porca miseria, me lo devo portare dietro. Ma neanche in armadio? Qua, nella valigia. Trasferisci. Delle mie armi, mitraione. Deposita. Ok, possiamo andare. Allora, vediamo perché per prendere una delle armi che mi piace di più del gioco devo fare tutte le missioni dei Minutemen. Quindi inizio a prendere magari a parlare con Preston e poi andiamo anche a a Diamond City per il figlio. Ehi, sono felice che tu abbia deciso di venire con noi. Dovevo dare ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Sì, è bello. Io vivevo qui prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui più di duecento anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione o qualcosa del genere prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? Allora, se diciamo mio figlio do ragione alla vecchietta. Quindi... non mi va di parlarne. Non importa. Abbiamo tutti un passato con cui fare i conti. Non devo sapere niente che tu non voglia dirmi. Comunque, sono felice che tu sia qui. Attimo di silenzio in barzio. non ti dispiace, ma... ho un altro favore da chiederti. Eccola lì. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è di mostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu? Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturgis. Sarà contento di avere un aiuto. Allora, ovvio che adesso quella, la chiamata della libertà era una missione principale. Adesso ne abbiamo altre più piccole. In più, credo che posso modificare il nostro personaggio. Quindi, cioè nel senso, posso migliorarlo. Fischia Percezione è già al massimo, porca miseria. Allora, Borseggio, Pugno di Ferro, Robustezza. Ecco qua. Lasciati guidare dalla Voltec il percorso verso il suo obiettivo di missione più vicino indicato nello SPAV. È SNAV. Lasciati guidare dalla Voltec il percorso verso il tuo obiettivo di missione più vicino è indicato nello SPAV. Ma questo ce l'abbiamo già. Vabbè. Domina lo spirito del vecchio West. Le pistole non automatiche infliggono più... Beh, questo sarebbe figo anche. C'è un dottore qui. Gli steampack ripristino il 40% della salute persa e i Radaway rimuovono il 40%. Questo è buono da fare. Posso già farlo? Questo è buono perché gli steampack sono importantissimi. Per configgere il nemico devi conoscere le sue debolezze e le resistenze e i danni del bersaglio sono visibili nello SPAV. No, questo ancora no? boh, vediamo. Ce ne sono un botto in realtà, eh? Sì, allora, ecco, uno dei problemi è che ce ne sono veramente una valangata. Però poi dipendono da quello che avete qua, quindi più alzate questi e più si sbloccano quelli in questo momento invisibili, no? Allora, signore dei sogni, come un mistero della morte puoi uccidere istantaneamente una persona che dorme. Questo non ce ne frega niente. Scassinatore, le tue agili dita ti permettono di scassinare con più felicità e di aprire serrature di livello medio. Questo è importante. Anche perché poi proveremo ad aumentarlo ancora. Sì, c'è anche Scroccone. Non so dove, ma c'è anche Scroccone. Adesso vediamo, aspetta che lo vado a cercare. Scroccone. Sai, guardare nei posti giusti per continuare a combattere trovi più munizioni. Però io questa volta, siccome ho sempre fatto cose che mi potenziavano per 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 gli scontri diretti, stavolta voglio tipo andare sulle serrature, su quelle robe un po' particolari. Anche questo non è male per il cecchino. Ricarica più rapidamente. Non ci sono posti per nascondersi. Con lo spav puoi puntare parti del corpo nemiche nascoste da strutture con una precisione ridotta. Oh, questo è buono, ragazzi. perché il tipo di prima che si nascondeva dietro i muri con questo non è male. Non so se andare subito su questo. Anche questo. Concentrati. Per ogni attacco contro la stessa parte del corpo con lo spavo ottieni più 10% di precisione. Per ogni attacco quindi 10, 10, 10. c'è una roba che diventi precisissimo. Questo lo facciamo. Dobbiamo completare quelli lì che ci rendono più forti in una sola cosa. Inutile andare troppo. Se ne metti troppi diversi poi non sei forte in niente preferisco essere fortissimo in una cosa piuttosto che bravino in 12 preferisco essere fortissimo in una. Qua c'è del fuoco vuol dire che ci abita qualcuno? Porca merda! grazie mi ha aiutato il cane ok andiamo allora dobbiamo andare a Diamond City ma anche ad aiutare dei coloni quindi andiamo a vedere nella mappa ci facciamo anche queste due missioni poi magari una volta arrivati a Diamond City potrei pensare se beh però Diamond City è la missione principale passiamo prima dai coloni quindi andiamo qua no beh ma tanto caspita però è lunga facciamo già viaggio rapido qui avviciniamoci dove eravamo prima dove abbiamo ucciso il Death Claw e e così partiamo da lì facciamo meno strada livello 4 robe andiamo ok prendiamo questa meno male che sta diventando giorno allora la strada è questa sì dai tiriamo giù così oh che schia avevo sentito parlare qua indica una capannina da scoprire vediamo di che cosa si tratta oh i gaul fischia sono ferali questi porca merda il cane oh calmo 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 dov'è qua merda stai calmo zio stai calmo e abbia un attimo di pazione questo è fortissimo ma chi è quello dove è andato grazie ma me ne aveva puntato un altro non so dove ragazzi questi sono i gaul ferali ok questi sono completamente scelerati dov'è il cane oh lascia stare il cane alla faccia dell'andiamo a trovare la capannina comunque raga prima me ne aveva puntato uno non so dove bottiglia di whisky che si potrebbe anche prendere per bere oh zio ci mancherebbe ci mancherebbe sono aglietto signori oh ragazzi giovedì facciamo già la seconda parte è svegliato e si stava scorreggiando jet ci sono pure le droghe ragazzi se volete qua jet questo cos'è un fornelletto laboratorio chimico che sarebbe anche importante più avanti ma sinceramente ragazzi il gioco si può finire anche senza modifiche no beh poi le modifiche alle armi sono fighe magari poi le faremo giovedì facciamo la seconda parte e poi vediamo perché adesso sto chiedendo una roba mi piace un botto vorrei portarvela in live magari sarà un una cosa che verrà fuori di mezzo a queste di fallout poi sapete che il 26 esce soft thieves per ps5 mi piacerebbe provarlo con voi al massimo vicario se se voi avete la versione ps5 vi potrei far salire di livello velocemente perché io poi entro con l'account con la mia versione xbox microsoft e quindi potrei farvi fare le missioni più difficili dogmeat dove vai vieni qua va che ci sono altri cani vieni a giocare con gli altri cani dove sei vieni vieni dai fare pirla ti è vicino merda ma sono fortissimi sti cani oh lascialo sta ma sono troppo forti sti cani quanti proiettili vogliono oh cosa sono quelli gunner vieni qua vieni qua vieni qui dogmeat dogmeat vieni qui no raga sono disarmati raga sono con voi sono dei vostri no raga sono fortissimi voi aspettate provo con col moschettino ma non gli tolgo comunque nulla oh la ma porca merda sta per esplodere però è vero avete visto che aumentava la percentuale è il bonus che abbiamo sbloccato coca miseria ma quanto c'ha di ricarica sto coso fa cagare faccio io da solo va eh dai dogmeat vieni su tutti gli steampack mi stai usando ok dai non hanno un aspetta un po' forse mi ha dato il torace ragazzi eh eh si torace in cuoio gamba destra in cuoio buono buonissimo ragazzi vediamo eh guardate qua adesso come sono bello coperto ma chi è che continua a sparare oh ma guarda un po' questa e il fatto di sto moschettino è che devi ogni volta ricaricare mannaggia ok andiamo a vedere cosa avevano questi comunque godono molto quando li colpisce un bel fritto misto allora ma qua non c'è niente oh ah no una cassa oh radaway grande eh munizioni ok oh staranno proteggendo qualcosa una base aspettate che mi faccio uno steampack ok ok ci siamo ragazzi ragazzuoli lì c'è un'altra torretta vedete porca miseria eh certo perfetto perfetto cosa proteggevi munizioni uniforme da baseball abito con lustrini munizioni ok questi proteggevano un abito con lustrini che adesso giustamente volete che metto giusto allora vediamo abito con lustrini eccolo qua vediamo che poi dovrei comunque avere le no eccolo qua ragazzi abito con lustrini come vi sembra sembra un bravo ragazzo ok abito con lustrini poi abbiamo invece coi tacchi anche sì aveva le scarpine uniforme da baseball ah uniforme da baseball vi dirò però non ho capito perché non ha tenuto le altre parti della corazza scusa braccio sinistro ok gamba di cuoio gamba sinistra di cuoio torace di cuoio eh vediamo ah ecco ma vi dirò giocatore da baseball non fa schifo però per la per noi per adesso teniamo il vault per adesso non abbiamo trovato niente che ci piace allora cuoio 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 ok andiamo caspita è finita no ma dove avrà salvato ragazzi che culo mentre provava i vestiti che culo ragazzi che culo che culo mamma mia che sederino non potete capire poteva anche essere salvato alla al primo giorno proprio quando siamo usciti dal vault mamma mia che culo vabbè siamo a posto ci sei bravissimo andiamo mamma mia no mi son cagato ad osso oh sti due fischia gianni e binotto sono tornati dalla oh io volevo fare amicizia oh l'avessi presi una mezza po' stimpac dai raga basta con calma con calma adesso gianni e binotto e binotto lo recuperi è binotto gianni e chinotto allora un attimo eravamo arrivati con i vestiti sapete perché da quando ho indossato l'abito con i lustrini è successo tutto da quel momento ok eccoli là li vedo ma sono più di due comunque sono tre c'è proprio una postazione lì comunque allora dogmeet fai così vai tu e poi io vado a cacchio 11 61 61 è buono dai non rompere le balle oh via e che caspita quanta vita hai ma che è l'uomo ragno quello lì basta imbecile dai bravo dogmeet bravo dogmeet bravo dogmeet non mollare dogmeet non mollare ma come tortiera ma questa ragazzi è ancora la versione ps4 la versione ps5 si sblocca i 25 camicia di flanella e jeans ragazzi no stavo pensando ma con che cosa mi hanno sparato ah sempre con la pistola laser però perlomeno in teoria dovrebbe essere più forte del moschetto eh in teoria perché il moschetto per ricaricarlo bisogna piangere allora facciamo così prefe e la mettiamo al posto del moschetto la proviamo e vediamo cosa ci può fare stava portando la torta alla nonna e tu li hai uccisi effettivamente che cosa ci faceva con la tortiera tu scherzi probabilmente hanno preparato una torta qua ma che merda c'è la torretta fischia l'avesse preso mezza volta oh oh ma quanto c'ha di vita questo qua basta eh che caspita l'assoluto è bassa via guardalo dogmit guardalo buona ma tu l'ha bruciato la torretta infatti perfetto ma cambia graficamente poi sistemano un po' di robe di bug di glitch cose varie però cambierà molto la pulizia grafica ma tutto qui il 25 aprile comunque sarà poi non so sinceramente cosa aggiungeranno di preciso non ho letto tutto oh fucile da cecchino temprato però c'è sempre un cecchinello eh ok non lo so se prenderlo il cecchino quanto toglie questo proviamo fucile da cecchino preferiti in alto vediamo ma ce l'ha eh danno 46 30 24 18 ok dai proviamolo ragazzi a distanza sicuramente fa il suo poi bisognerà cambiare arma allora il nostro obiettivo comunque era andare ad aiutare una fattoria eh andiamo steampack allora c'era una fattoria nei guai ha detto Preston Garvey sta pure piovendo perfetto proprio quelle giornate lì perfette per andare in giro nella zona contaminata porca me allora quanto dista vabbè dai non manca tanto e in teoria potrebbe essere pioggia radiattiva però non credo perché in teoria le radiazioni nell'aria dovrebbero essere passate sono passate 200 anni quindi più che altro le radiazioni saranno tipo se la bevi se proprio ok porca merda mamma mia mi son cagata ad osso ma tu chi sei ehi ehi ciao bel cane un'aria solitaria non pensi mi piacerebbe qualcuno con cui giocare in che senso perché la vendi non è che voglio farlo però io amo i cani in qualche modo devo guadagnarmi da vivere così li allevo e li vendo dopo averne venduto uno ho il magone per una settimana poi però prendo un nuovo cucciolo e ricomincio da capo devo pensarci oh va bene sai io vendo cani per vivere ma non mi piace per niente separarmi da loro però posso farlo se cambierai idea ma di che cani sta parlando ma dove c'è i cani questo scusate chi è ma non vedo roba qua vicino si l'ho vista anch'io le basette che gli arrivano dentro la bocca però scusatemi questo dov'è l'allevamento dei cani cioè mi piacerebbe saperne di più cioè vedere questi cani eccone qua uno porca miseria ciao patatino ma dov'è che ce l'è l'allevamento zio mi sembra tutto troppo strano ma vabbè andiamo per la nostra dai ci ha dato una missione ci sono delle persone che hanno bisogno di aiuto andiamo ah ok beh ma non penso di potermi portare dietro due cani nel caso non credo non credo si possa comunque comunque siamo quasi arrivati dai andiamo a vedere di che cosa hanno bisogno porco porco grazie mille grazie mille di tutto bello grazie mille buonanotte ci vediamo giovedì sera o poi domani nei prossimi video se no giovedì sera lo continuiamo questo o vediamo se fare altro devo ricevere prima una risposta ma qua siamo su ps5 non penso di mettere mod ma non sono un amante delle mod mi piace giocare i giochi così come sono caspita però qua rischio tantissimo perché secondo me c'è qualcuno qua dire di no ma sembrerebbe di no allora quelli che hanno bisogno di aiuto sono qua quindi non non dista molto seguo le rotaie porca miseria scusatemi ma di sto posto non mi fido ok ci siamo ragazzi siamo arrivati stazione di Oberland il posto è questo chi ha bisogno di aiuto cosa coltivano tatos ehi no 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 oh oh te calma che cosa vuoi abbiamo già abbastanza guai da queste parti fischia punti sempre un'arma contro tutti quelli che incontri di questi tempi purtroppo sì se perdiamo altri raccolti è la fine ora è meglio se te ne vai non c'è niente qui per te calmati sono dei minuteman sono qui per dare una mano sei dei minuteman? non credevo nemmeno che esistessero abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio ma non credevo che sarebbe servita qualcosa la maggior parte della gente non ha molta fiducia nei minuteman di questi tempi dopo Quincy brutta storia quella non tiriamola per le lunghe però allora vuoi che ti aiuti o no? non fraintendermi sono felice di vederti c'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane vengono e rubano cibo e provviste minacciando di ucciderci se non li paghiamo sappiamo da dove vengono ma non possiamo affrontarli da soli ci penso io non preoccuparti mi occuperò io di quei predoni grazie se questa volta fate sul serio le cose non potranno che migliorare ok ma sta a vedere che stanno proprio lì vero? eh quando mai? stanno proprio lì ragazzi beh oh ripuliamo questa fabbrica ma da qua posso entrare? no no birrificio allora io direi di entrare con questa per ora ah è chiusa mannaggia porca miseria c'ero quasi ok 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 calmi qua facciamo questa e poi andiamo alla missione principale a diamond city porca è pieno ma chi è che ha lanciato ste granate ma chi è che ha lanciato le granate ragazzi oh c'è una trappola vediamo eccola è una trappola raga ma pensate ma zia ti è distrutto eh quelle granate lì non mi piacciono preferisco farci passare uno di loro da lì fissi oh oh vieni dogmeat vieni bella calmi dogmeat vieni qua si ma le granate scuartalo dogmeat vediamo ricarico un attimo i punti azione merda perfetto quanti sono? dov'è? quali granate sono esplose? potrei passare vediamo non ci sono più dove sta? eccolo lì tower tom ma chi è? tower tom eh son più potenti ma fanno schifo esteticamente scusate c'è pure l'ascensore ma la missione è compiuta no? scusa ho ucciso il capo il capo sarà tower tom in teoria però mi dice ancora che c'è qualche ah no scusate ma mi dice che abbiamo finito? ma non era questo il posto ma porca miseria ragazzi ho ucciso tower tom per niente ma ci avrà avuto un'arma speciale tower tom che era il capo però aspettate un attimo dite che non ce l'ha un'arma speciale ma cosa ridi barbara ho sbagliato ma non era questo il luogo ho ammazzato gente per niente no beh per niente erano predoni chi se ne frega però i predoni è giusto così pesante artigianale pistola torace da predone braccio destro no non aveva armi speciali peccato che io ho completamente toppato ragazzi che figura no cattivo cattivo era cattivo ha ucciso gente che non c'entrava un cazzo e oh non è vero dava da vivere agli orfani ma cosa state dicendo era cattivissimo tower tom allora vediamo è ancora più ma che quanta strada cioè quei predoni lì gli davano fastidio fischia un po' lontano porca trottola no come skyrim come skyrim come skyrim saltella saltella come skyrim dai dici che non ce la fa dai zio no fai finta di essere su skyrim no ma come cacchio è che deve versi il basso qua no il cane vieni qui che lì è radioattivo ma perché che è sta roba effettivamente vive in un birrificio e nemmeno una media ha offerto tower tom vedi c'è non era così bravo tower tom non diamogli sempre ragione perché ha il nome figo allora oh dritto così è quella lì la fabbrica dai è quella lì quindi ponte caspita sembrava una missioncina ho detto poi andiamo a diamond city si si ischia tutta la taggenziale devo fare ma che poi è qua il campo ragazzi ah no no è nuovo questo fischia questi c'hanno tutto un garden ok oh ma bravi guarda questi fischia gogomeri pomeri le angurie facevano ok ci siamo ragazzi almeno questa prima di mezzanotte la dobbiamo fare ragazzi non ce n'è ma siete in 72 mettete like ma siete stati tantissimi ragazzi per una live bello mi piace allora iscrivetevi al canale ragazzi se volete altre live ci vediamo giovedì con la continuazione di questa però abbiamo in progetto tantissime altre live una serie di live volevo farvi altri giochi più avanti quindi iscrivetevi sempre poi c'è anche ovviamente black flag che sto facendo quindi iscrivetevi che è sempre importante anche come streamer per le live quindi intanto giovedì ci rivediamo giovedì sera sempre 20 e 45 ci rivediamo qua impianto di assemblaggio ok vediamo un pochino perché eh fischia ma siete in 32 ma cosa cazzo altro che minuteman qua servivano è la guerra nucleare ma che cos'è no dai torna indietro mi stavo divertendo no dogmit scusa bruciata completamente calmi 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 vieni 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 se c'è coraggio vieni mannaggia sono tantissimi ciao Mario benvenuto poi tanto la potete recuperare perché rimane sul canale la potete guardare con calma quando volete forza copritemi fregato grazie Barbara un bacione che figata è ha proprio messo è come se ha fatto un discorso di fallout con le emote brava Barbara oh però ci sta andando bene per adesso non si può dire niente e questa non la prendo oh con calma fischia eh non mi sfidare zio non mi sfidare non sai con chi è a che fare oh eh ma forse ci sono troppe eh non lo colpì cioè secondo me c'è troppa barriera vai bello vai ma chi oh vieni qua Dogmit vieni dove va dove andava ma quanti sono sono tantissimi ora ho capito perché quella fattoria ha chiesto aiuto ma ciao ma guardate boom perfetto solo che sto finendo le munizioni del cecchino però il cecchino dà più precisione anche nel cioè mi manca meno colpi beh l'orologio d'oro lo prendiamo non lì dentro eh questo è difficile da beccare a meno che eh uh dogmit vieni dai ce la possiamo fare tra poco recuperi vieni solo che ho finito il progresso oh guardate ho finito i proiettili no nessuno mi dà proiettili del cecchino che cosa hai finito cosa vuoi oh ale a chi come ti permetti intanto il cane brucia male ma come nessuna traccia cos'è che hai finito il pischia ma dov'è l'ingresso di qua devo salire aspetta che cambio arma va uno steampack ok entro da qui ah il libro ma vediamo ragazzi perché ancora non ho capito questi cioè che chi devo chi devo uccidere per che cazzo è stato per aiutare quei quei coloni capito non c'è niente attacco furtivo ragazzi c'è un altro qua sotto dite che lo becco no da dove oh dicono tutti così ma dov'è l'ho visto l'ho visto uno è lì perfetto non puoi morire così no 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 niente bombe non ci vorrà granate tutti c'hanno questi che mira di merda oh devo andare allora una cosa che voglio capire ecco questo è più forte degli altri però questa era più forte allora un attimo ragazzi perché è che è un problema con tutto il tempo Ma finiranno mai? Quanti sono? Ragazzi Non finiremo mai sta missione Ma chi? Oh la granata Gli è tornata giù Perfetto Mannaggia ragazzi Siamo nella cacca Ma stavolta il posto è questo Perché Ah di un pelo Allora facciamo così Finiamo sta missione Andiamo a Diamond City E siamo a posto Ottimo No no non molliamo Non molliamo Devo solo capire Eccolo Dove è l'obiettivo Più che altro L'obiettivo finale Cosa faceva questo qua dietro Cosa faceva questo qua dietro? Forza Oh Te lo si è meritato Forza La fatte senza forza No 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 Vuoi proprio sacrificarti eh? Devo trovare tipo il loro capo Secondo me Perché finché non trovi il loro capo Siamo nella cacca Che fine avrà fatto Sarà qua sopra? E' qui da qualche parte Ragazzi eh Non ci sono mai salito Quindi vuol dire Che è qua in giro Che cazzo sta Ehm Oh Ci sarà il cane Che è arrabbiatissimo Perché non riesce a far niente Arrenditi Non hai scampo Cioè io dopo che ho disintegrato Tutti i suoi amici Non ho scampo Questo non sta bene Prima o poi dovrai No dai Torna indietro Mi stavo divertendo Scusate Ok Ho capito però Dov'è il loro capo Ah ti va di giocare eh? Bisogna salire di nuovo Questi sono i cessi Ci deve essere un modo per salire Ragazzi Non c'è un'altra rampa di scale Non c'è un'altra rampa di scale Ci siamo secondo me Ci siamo secondo me Vieni a prenderne un po' E porca miseria E porca miseria E qua il loro capo ragazzi E qua Come faccio a liberare questo? Merda Porca miseria E' pieno di torrette Aspettate Aspettate Tutore della legge Tutore della legge Tutore della legge abbiamo messo Vediamo Vediamo se ci aiuta Notte Marco Cioè gli stanno sparando a lui Ma lui viene a rompere le balle a me Ma veramente Ma non ti dovevo attivare allora Cos'è che ho fatto sbagliato? Forse tutore della legge Non va bene in questo caso Ok Una torretta è andata Vedere dov'è l'altra Porca miseria Mannaggia me A quando ho attivato sto coso Boom Dai ragazzi Ce la facciamo Buonanotte a chi va Ma vi perdete l'ingresso A Diamond City Se andate via Dai tanto manca poco Faccio sto boss qua E andiamo a Diamond City Porca me Nelle chiappette Così Boom Ok il capo è quello lì Non puoi morire così Ma chi la torretta ha detto Non puoi morire così Prima o poi Finirà i proiettili No Alessio Me lo state dicendo tutti Abbiamo deciso tutti di no Cioè ci sarà un motivo Per il quale non abbiamo aspettato No Poi quando esce l'upgrade Noi siamo già in una Parte avanzata del gioco Ma che fine avrà fatto Già Red si chiama Merda 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 la macchina La macchina La macchina Porr Lo schifo Devo Speriamo che ha salvato Mentre cambiavo Vediamo eh Dove ha salvato Non ci credo Raga Non ci credo Qualcuno? No Dai però sono gasato Va benissimo Li facciamo tutti subito Eh ragazzi Quando saltano in aria Le macchine È brutta Sì ma stavolta Sono anche più veloci Vi faccio fuori In poco tempo Non ti preoccupare Facciamo Dov'è che stava? Qua sopra forse Ma forse sapete che potrei Prendere l'ascensore? Ma dove stai? Ma da lì sotto Sì ma Sì ma Sì ma Sì ma Sì ma Sì ma e muori una buona volta niente non ha sparato più però ragazzi stavolta siamo andati velocissimi ai miei tempi le quest duravano meno veramente ma qua allora adesso sto andando il doppio più veloce infatti sono già quasi al boss però ma poi scusami eh ma tu ok eravamo venuti qua era in alto era vedete questi qua li abbiamo già fatti fuori tutti bisogna trovare la strada per andare in alto che non mi ricordo più dove cacchio è di qua si vedete stiamo già andando dal boss oh siamo già dal boss visto però stavolta salviamo qua allora fatemi capire perché questo non mi si attiva come tutore della legge forse nessuna affinità offer nessuna affinità which fantastico eh ma sono un genio allora seleziona personalità tutore della legge ok e attiva oh stavolta è giusto stavolta è della nostra parte dov'è il cane via dogmit via ragazzi stavolta l'ho attivato giusto figata ma chi è in arrivo oh ah mi ero dimenticato delle torrette merda 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 ce la facciamo ragazzi stavolta ce la facciamo dai eh sono le torrette ragazzi che rompono le balle andiamo sempre di qua finirà di sparare qua no l'altra torretta guardalo ci siamo ragazzi allora aspettate aspettate come faccio a fare il giro devo capire come salire via niente di personale anzi sì è fra te e me è qua sopra ma che fine avrà fatto che cazzo ti nascondi è la fine per te come ci arrivo c'è un tasto un pulsante c'è un inter ok c'è un interruttore allora posso provare a fare la giocata ragazzi vediamo se si riesce prendiamo le molotov e frammentazione ah non così spero che ne verrà la pena capite raga ho fatto fuori il boss così con la molotov questa è un spagliato però dai l'altra è stata una giocata no dai torna indietro mi stavo divertendo ok ragazzi abbiamo fatto abbiamo fatto ragazzi fantastico ci è voluto un po' andiamo a vedere il boss che cosa aveva di speciale oh però solo i codardi si nascondono crognac il barbaro si i colpi critici con attacchi a mani nude in mischia infliggono vabbè non ci serviva però no più che altro stavo pensando ma ma il corpo del capo cioè l'ho fatto saltare con la molotov ma dov'è fischia il piano di sotto è il piano di sotto vabbè io potrei andare giù e prendere quello che devo prendere dal capo e poi uscire alla prima porta d'uscita quello che devo fare l'ho fatto eccolo qua allora un attimo però perché qua mi dice che c'è una cassaforte io ho rubato la chiave di una cassaforte ragazzi andiamo a vedere ci deve essere una cassaforte qua in giro proprio cassaforte però non questa ma dov'è dove è stata cassaforte ma non la vedo merda ma lì sono entrate oh è entrata gente qua c'è tutto tranne la cassaforte ragazzi io non la vedo ho una chiave ma non chissà di che cavolo parla anche perché la stanza del capo sarà questa vabbè che cazzo è stato servono rinforzi che rinforzi no merda la macchina come prima tutto sta saltando in alto ok possiamo andare via andiamo a diamond city così per oggi siamo a posto andiamo a diamond city che per oggi siamo a posto l'uscita me la indica di qua c'è radioattività sapete che non ho ancora capito dove è sta cassaforte peccato peccato per la cassaforte ragazzi ma io non l'ho proprio vista ecco le qua le cose radioattive mannaggia tornate ai vostri posti non c'è niente qui ma si è appena saltato in aria tutto no mi dispiace che non ho trovato la cassaforte però vabbè ci può stare allora vi ricordo giovedì continuiamo eh adesso vado a diamond city così continuiamo la storia principale perfetto non c'è nessuna cassaforte neanche qua ok vediamo se mi posso un attimo potenziare col vestiario allora braccio sinistro cuoio ok questo braccio destro in cuoio mi fa di più ok non c'è niente questo è un più maschera antigast assalto beh per adesso niente questo gamba sinistra da pedro da predone ok e in teoria così dovrei essere diciamo al massimo ma che bellino ok allora potrei tornare dal tizio a dirgli io ce l'ho fatta alla fattoria che infatti è qua così mi avvicino anche a diamond city perfetto dai andiamo andiamo qui gli diciamo che abbiamo fatto e poi andiamo a diamond city e possiamo concludere la prima live nella seconda andiamo avanti con la storia principale eccoci qua ehi la hai trovato quei predoni eh si li ho già sistemati scherzi finalmente una bella notizia dopo tanto tempo ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che se ci avessi aiutati ci saremmo uniti di nuovo ai minutemen se vogliamo che le cose migliorino dobbiamo cominciare a sostenerci a vicenda siamo dei vostri conta pure su di noi in caso di bisogno e grazie ancora grande ora bisognerà fare tutte le missioni dei minutemen per poi mi sembra fare una conquista importante e poi mi danno un'arma devastante ciao ciao barbara buonanotte buonanotte grazie per essere rimasta fino a quest'ora allora andiamo a diamond city che è una figata quindi ragazzi poi basta e poi siamo a posto per oggi quindi ci mettiamo pochissimo anche se qui c'è l'ingresso di un volt che voglio sbloccare c'è l'ingresso di un volt qua che volta è questo ciao buonanotte porca merda ecco questo è quello che avete visto nella serie tv no questo ammazza ragazzi a meno che non mi butto giù vedete che ci arriva qua sopra mi inizia questo non ce la farò mai allora proviamo a scaricare la pistola poi andiamo di questo e scarichiamo anche questo dove è andato qua che caga sotto ah ti ho preso qua eh ti ho preso eh ok proviamo a vedere se si sposta se salgo di qua ok ti piacerebbe questo è fortissimo questo te lo sei preso in faccia però aspetta un po' ma se io vado di di headshot pazzo allora gli ho sparato in testa gli ho tirato una secca abominevole però vedo che lui non ha nessun problema fischia raga ma quanto c'ha no dai che ci siamo ragazzi questo headshot qui l'ha stunnato merda fatto porca miseria oh c'era l'ingresso di un volt qua eccolo qui che volt è? segniamocelo 81 ok diamond city dov'è? di qua quindi qua andiamo ci siamo ragazzi diamond city è quella lì finalmente ok possiamo chiudere la live in bellezza ragazzi siete ancora in 70 ma se siete impazziti scrivete tutti chattate tutti che che vi saluto almeno dai ci diamo tutti la buonanotte e ci vediamo giovedì ragazzi con la prossima live iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche e qua siamo proprio non ancora a diamond city questa non c'entra niente però attenzione perché sono sempre posti importanti diamond city è lì dietro ciao king's team noemi ma tu stavi noemi tu stavi guardando la live e hai salutato solo perché l'ho detto io ciao polino grandi ragazzi adesso entriamo a diamond city e poi ci vediamo giovedì dai ah salutato prima porca miseria tagami scrivi di più come stai tutto a posto fischia ma i predoni pure qua ok ok che cazzo sta allora aiuto per favore aiuto è ferita allora questo ci frega ragazzi per favore aiuto è ferita ha detto morirà ha bisogno d'aiuto sì sì però colono ciao paolo ciao francesco allora vedete che ci siete però ve lo godete voi dite io me lo guardo in televisione ragazzi questa ci frega questa ci frega tantissimo questa è una trappola di quelle ti avevo detto di portarli nei sotterranei zitto stanno arrivando preparati ok è una trappola bellissima e noi ci andremo dentro ma che cazzo stacco di stare qui ad aspettare che senso ha nascondersi qui perché cazzo non gli spariamo in testa non appena entrano dalla porta lo sapevo io ragazzi questi sono degli assassini e si prenderanno tutto quello che abbiamo in tasca accumulando i cadaveri qui sotto intorno non possono essere andati lontano ma noi fermeremo questo scempio che cazzo è stato ah è pure il boss questo demo dogmit si è messo davanti ma dogmit porca no non puoi morire così non ci vorrà mollami mollami non c'è un posto dove coprirmi che c'è niente oh non ho più munizioni ok c'è qualcun altro forse ce l'abbiamo fatta ragazzi e questi la smettono ad ammazzare tutti ma l'hai visto come è saltata la testa bruttissimo ma c'era un altro c'era un altro raga sopra ho preso la vodka non è la prima volta che sparo ma dove sta oh è fatti vedere no comunque mega trappola ma ci siamo fregati due steampack trappolona ci hanno tirato ma noi ci siamo solo presi due steampack e ce ne andiamo a diamond city per concludere questa live devastante sul mondo di fallout abbiamo fatto veramente di tutto eh ragazzi abbiamo fatto di tutto ora comunque già ci sono pochi umani e tu stai contribuendo a farli estinguere del tutto però eh oh purtroppo sono tutti predoni vediamo perché abbiamo diamond city davanti volevamo andare ad aiutare queste genti ma si vede che non se lo meritano ma in realtà è così no si diamond city è di qua o almeno prima o poi scarafaggio radioattivo luminescente ragazzi porca merda pensavate eccolo lì vedete che praticamente diamond city è lo stadio di di boston no di baseball che significa che non puoi aprire smettila di scherzare Danny sono qui allo scoperto porca puttana ho ordine di non farti entrare Piper mi dispiace faccio solo il mio lavoro fai solo il tuo lavoro proteggere diamond city significa tenermi fuori è così oh guarda è la temibile reporter mi dispiace ma il sindaco mcdonald è davvero furente Piper dice che l'articolo che hai scritto è pieno di mezzogne l'intera città è in agitazione apri subito Danny Sullivan io vivo qui non potete chiudermi fuori quindi tu vuoi entrare a diamond city vero cosa e tu chi sei reggimi il gioco chi hai detto ah hai detto che sei di Quincy hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese hai sentito Danny vuoi aprire e farci entrare o vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi ritornimenti d'accordo non c'è bisogno di farne una questione personale Piper dammi un minuto farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto non prendo ordini da te ah calma tu entra pure quando vuoi che ti ha fatto entrare avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello suddo la diffamatrice agitatrice di folle il livello di disonestà del tuo giornale farò smontare le vostre macchine tipografiche per recuperarne i pezzi oh è una dichiarazione signor McDonagh sindaco tiranno censura la stampa perché non chiediamo al nuovo arrivo sostieni i giornali perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola non mi riguarda non sono affari miei oh non volevo trascinarti in questa discussione no 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 sembri adatto a vivere a Diamond City ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth sicuro felice un luogo in cui arrivare spendere i propri soldi e stabilirsi non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi d'accordo? non è stato un grande benvenuto ti ha beccato McDonagh sembra che non tutti si lasciano conquistare da quel tuo sorriso da squalo ora sei qui in città per qualche motivo particolare? sto cercando una cosa oh e cosa stai cercando? con chi posso parlare per trovare una persona scomparsa? beh ovunque tu vada non andare a chiedere aiuto alla sicurezza di Diamond City non ascoltarla sebbene mi addolori che la nostra squadra di sicurezza non riesca a seguire tutti i casi aperti sono sicuro che potrai trovare aiuto Diamond City dispone di ogni genere di servizio uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per aiutarti ok lo spero è ridicolo voglio la verità McDonagh qual è il vero motivo per cui la sicurezza fa sempre finta di niente quando si parla di persone scomparse? ne ho abbastanza Piper da questo momento tu e tua sorella siete avvisati si continua a parlare McDonagh non sai fare altro un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco che onore eh ascolta devo andare a sistemarmi ma passa dal mio ufficio più tardi ho un'idea per un articolo perfetto su di te ok ragazzi praticamente Diamond City stiamo andando praticamente non è la prima persona scomparsa ci sono degli intrallazzi con le persone scomparse eh quindi preparatevi alla seconda parte ci vediamo giovedì sera a 20.45 ecco qua Diamond City spettacolare perché c'è tantissima roba da fare qui quindi preparatevi ecco lì Piper col sindaco e ci vediamo ragazzi nella prossima live in teoria dovrei andare da un detective qua se non mi sbaglio però nel nella seconda parte giovedì sera andiamo avanti grazie a tutti un abbraccio un bacione grazie a tutti quelli che sono rimasti finora a guardare la live che mezzanotte e mezza siete stati in 70 fino a poco tempo fa quindi grazie davvero tantissimo adesso siete ancora in 60 fate voi grazie davvero tantissimo ci vediamo giovedì sera 20.45 poi vi avviso su Instagram iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e seguitemi su Instagram che è importantissimo alla prossima ragazzi buonanotte buonanotte intanto questi parlano è così buonanotte smettila di preoccuparti tanto devo tornare in ufficio se vedi qualche politico infuriato che viene da noi fa un fischio perché? c'è qualche problema? vai per le ultime notizie dal Commonwealth grazie a tutti grazie a tutti